No, domani è una competizione ufficiale, importante, è una partita dove adesso ormai tutte le squadre hanno la volontà e la voglia di superare il turno, di andare avanti perché è una competizione importante e anche noi abbiamo questa voglia di, soprattutto di rivalsa rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, di cercare di dare filo da torcere al Napoli, di fare una prestazione diversa e di superare il turno, quello che penseranno tutte le squadre che sono arrivate a questo turno di Coppa e anche noi ci aggiungiamo alla voglia di andare avanti. È stato il secondo allenamento di Piontech, è tra i convocati e da domani inizia a far parte di questa nuova avventura, è un ragazzo che si allena forte, in questi due allenamenti l'ha fatto vedere, è un ragazzo felicissimo di far parte di questo gruppo e sono convinto che sfrutteremo al meglio le sue qualità. Quando arriva un calciatore a gennaio, parliamo di un calciatore che negli ultimi anni ha vinto uno scudetto, ha giocato in Champions League, sicuramente ha delle certezze sue anche a livello di movimenti, in base a quello che le erano richieste dell'allenatore e della squadra precedente. Quindi quando un calciatore arriva a gennaio, quando dico che bisogna avere tempo prima di buttarlo nella mischia, prima di cercare di non metterlo nelle condizioni di rendere, di capire bene la proposta, l'idea, quello che chiede l'allenatore, l'intesa con i compagni, è abituato a venire dentro, che è una cosa che sinceramente non mi dispiace, però adesso deve iniziare a farlo nei tempi giusti, nei momenti giusti, con il sincronismo giusto, quando serve, sbarcarsi bene, ed è questo quello che tutte le volte si cerca di far migliorare nel breve tempo possibile chi ti arriva ad altre realtà e chi è abituato in un altro modo. Quindi con calma, con pazienza, è un ragazzo intelligente, forte, ha grande tecnica, però con calma deve inserirsi bene nei nostri meccanismi, questa è la verità. No, è una squadra che gioca bene, velocità di pensiero, qualità, giocatori forti sui duelli, nell'uno contro uno, la squadra che aveva vinto 8-9 partite consecutive quest'anno, una squadra che è lì nelle prime posizioni, è una squadra che è una delle più forti del campionato, non da quest'anno, ma da tantissimi anni, quindi hanno continuità di rendimento, continuità di prestazioni, hanno giocatori forti in tutti i reparti, quindi io personalmente temo tutto dal Napoli, quindi se temo tutto vuol dire che già sono concentrato sin da adesso e la mia percezione è quella che se non faccio le cose per bene rischio di andare in difficoltà, quindi antenne dritte perché affrontiamo una delle squadre più forti del campionato e dobbiamo cercare di far bene.